Vigneto sicuro che cos'è di fatto? È una web app assolutamente facile da usare con la quale il viticoltore tramite una mappa interattiva può andare a cercare il suo appezzamento appunto via satellite, andare ad individuarlo e in tempo reale appunto l'app gli restituisce i dati microclimatici, quindi meteo puntuale sul campo e gli indici di rischio di peronospraidoidio. In questo modo, senza installare appunto capannine e meteo sul campo, riusciamo a localizzare, monitorare ed analizzare il nostro vigneto direttamente dallo smartphone. Quindi scendendo nello specifico come funziona Vigneto sicuro, come dicevo appunto c'è la creazione del campo, troviamo il campo sulla mappa, gli diamo un nome e a quel punto compaiono appunto gli indici di rischio. La schermata di creazione del campo appare appena vi scrivete, quindi proprio nella fase di onboarding, come dicono quelli bravi, a un certo punto c'è subito la possibilità di creare il primo appezzamento. Ovviamente quando si crea l'appezzamento, sia la peronospra che l'oidio ci vengono rilasciati e c'è il meteo appunto sul campo, molto importante in questa fase perché ci permette un po' di andare a capire come funziona l'app, settare il campo, prenderci la mano, vedere un po' quali sono i dati, eccetera. Quindi peronospra, oidio è meteo puntuale sul campo in tempo reale, in pochi minuti e in pochi clic. Ma non è finita qui.